In Molise la politica deve tornare ad occuparsi dei problemi della scuola. Arriba a dire ancora una volta il concetto e la Will Scuola che dice no ai campanilismi territoriali. Sono stati rappresentanti della Will Scuola a riportare in luce i problemi del sistema formativo in Molise che ha perso nell'ultimo decennio oltre 9.000 studenti. La presenza di aree interne, di scuole siti e territori montani e difficilmente raggiungibili rende necessaria per la Will un'attenzione specifica al territorio da parte della politica che invece non si è interessata al tema con il risultato che nella determinazione degli organici abbiamo dovuto cedere al mero criterio numerico che ci penalizza. Per la stessa ragione la Will Scuola chiede la revisione dei rigidi parametri imposti dalla legge sul dimensionamento delle scuole. Occorre ripartire da lì piuttosto che fare le solite ed inconcludenti guerre di campanile è la linea rilanciata dal sindacato. La presenza di istituti sottodimensionati con relative reggenze, la duplicazione di indirizzi, la mancanza di programmazione dell'offerta formativa territoriale rende non più rinviabile un nuovo piano di dimensionamento scolastico così come una nuova legge che regolamenti tutto il sistema di istruzione e formazione regionale ed un sistema di trasporti scolastici adeguato all'offerta formativa programmata. In questa situazione è ribadito la Will Scuola e senza correttivi il lento declino del sistema di istruzione molisano risulta inesorabile.